Ciao ragazze! Allora, spesso mi capita di sentire alcune di voi, alcune ragazze, che mi chiedono come scegliere un bracciale, soprattutto il primo bracciale, perché poi mano a mano si organizzano insomma. Il mio consiglio è sempre lo stesso, cioè entrate nel negozio ad esempio, guardate quello che hanno, ma prima di farlo guardate anche online, perché? Perché tante volte magari in negozio non hanno la vostra misura, vi dicono, non ve lo fanno neanche vedere e quindi magari c'era quel bracciale che invece vi sarebbe piaciuto di più che in quello store non lo trovate. Allora, in quel caso, che cosa si fa? Si può aspettare, si può ordinare online, si può vedere la misura e il modello diverso e poi online scegliere quello che più confà a noi e prendere proprio ciò che ci piace. Detto ciò, quindi una volta visto ciò che desideriamo, iniziamo con il capire la misura che effettivamente può andar bene per le nostre esigenze. Allora, e qui si apre un capitolo, perché? Solitamente negli acquisti si inizia con il bracciale classico, con la maglia snake, che è questa, guardate. Solitamente si inizia con le maglie che hanno la filettatura, vabbè, adesso questi ce l'hanno tutti, ma praticamente questo, ecco. Questo non l'ho mai messo, questo bracciale, è nuovissimo, lo acquistai per una ragazza che poi, non so per quale motivo, non l'ha più preso, lo acquistai in una gioielleria. Io ho presi per me la misura 19, ma questa invece è una misura 17, eccolo qui, vedete, questo è molto molto carino. E questo non si trova facilmente, ad esempio, vedete com'è, questo l'avevano ritirato perché molto simile era uscito quello della Disney. Molto bello, quello di Topolino, infatti è rigido, guardate, è rigido, è nuovissimo proprio, questo bracciale. Ecco, questo è l'esempio classico di ciò che noi dovremmo trovare quando il bracciale è nuovo, c'è questa, questa rigidità, Contrariamente a questo, vedete, o questo, qui, questo gioco non si riesce a fare perché è molto molto rigido. Questa è la prima caratteristica che si può vedere una volta superato il discorso del gusto personale dell'oggetto, no? Quindi la rigidità deve essere nuovo, attenzione perché spesso e volentieri, negli store soprattutto, riportano magari indietro per un regalo non gradito un bracciale, o un charme, vabbè, ma che stiamo parlando di bracciali, un bracciale che però è un po' difettato, mi è capitato anche a Meglia, al Fiordaliso, di trovare il bracciale quello con il cuoricino sottopendente, che aveva questa parte qui difettata, l'abbiamo vista insieme alla mia amica commessa, e abbiamo deciso di non, cioè, lei mi ha detto, guarda, io non te lo vorrei vendere perché a questo difetto, non so poi, visto che tu comunque li riempi abbastanza, non so come poi ti può, se si può rompere, si può ulteriormente ancora di più ammaccare, eccetera, e quindi abbiamo evitato l'acquisto di quel tipo di difetto. Quindi mi raccomando la rigidità, se non lo trovate così rigido, io fossi in voi, eviterei di acquistarlo, perché tanto ce ne sono di store, gioielleria, eccetera, eccetera. Una volta aperto, lo so che gli store sono straaffidabili, so che per carità, ma un'occhiatina all'interno io la darei sempre e comunque, punzonatura, adesso io ho portato questo come esempio, ma ovviamente, e linguetta in acciaio inossidabile con i tagli qui e qui, quindi non tondeggiante. Vi dico questo perché, perché spesso e volentieri, quando stanno in periodo di saldi, o quando sono a corto di personale in un posto, o quando ho appena aperto, spesso le commesse sono nuove, sono ragazze come voi, non come me, perché ormai io, io già sono del secondo giro di boa, quindi, vabbè, chi è della mia età ha capito. Per le ragazzette giovani di quadri, che magari, sì, forse posseggono anche un pandoro, magari spesso no, e che magari hanno fatto il corso, ma, come dire, non sempre tutto si recepisce, non sempre tutto si dice ai corsi, quindi bisogna stare molto attenti, che magari noi abbiano portato indietro un fake, perché è capitato, è capitato soprattutto con i charm, ma io parlo di ogni articolo che Pandora vende, e quindi bisogna stare molto attenti a ciò che si acquista, per non incappare poi nelle frasi tipo, eh ma io l'ho comprato in store, c'è tanto di garanzia, c'è tanto di scontrino, sì, ho capito, ma se è fake, fake rimane. Non sempre gli occhi di queste ragazze, magari giovani, magari inesperte, magari le prime armi, sono così ben disposte, insomma, a guardare oltre, no? Quindi, guardate voi per loro, perché tanto i soldi sono i vostri, e quindi, giustamente, ecco, questo buchino è per la luce che deve emanare, ma questo non si trova più, quindi è soltanto un esempio il mio. Quindi filettature, bracciale deve essere integro, rigido, ecco, importante, rigido, oddio, non mi si chiude, aspetta, ve lo volevo far vedere un attimo messo. Ah, mi ha tirato un peletto, mi ha tirato un peletto, pizzica. Ah, c'ho, vedi, c'ho anche i peli qui, ma io sono glabra, come faccio a averci peli? Vabbè, lasciamo stare. Ecco, questo qui, vedete, una volta messo, vedete quanto è molto aderente, diciamo, ma questo è ignorante. Vabbè, vi faccio vedere un'altra 17, facciamo prima, questo è troppo rigido, è proprio nuovo, 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 non riesco neanche a smollarlo un po', anzi, non voglio smollarlo un po', perché è giusto che rimanga rigido, visto che non l'ho mai messo, è giusto che non lo metta. Utilizzo questo, che invece già l'ho portato, questo ho messo anche le clip, è una 17 anch'esso, vedete la differenza, cioè, si smolla alla grande, perché, vabbè, questo l'ho portato tanto, tanto tempo. Questa è una 17, eccolo qui, il discorso punzonatura, il discorso linguetta, eccetera, eccetera. Questo è un bitono che però non c'è speranza a volte di trovarlo. Attenzione, forse qualche gioielleria nelle rimanenze. Attenzione, adesso io cercherò, aspettate, di fare una cosa più pulita possibile, ma fra le mie mani e la luce che non mi aiuta, io con i 17 ho sempre un po' un problema, perché siccome è proprio la mia dimensione del polso, ogni volta, quando lo devo chiudere, ho paura di forzare troppo, e quindi sono sempre attenta al chiodino come lo devo mettere. Ecco, l'ho messo, sì, l'ho messo. Oh, abbiamo fatto. Ecco qui. Allora, questa è una 17, vedete? Vedete? E calza così, un dito strettino. Questa è la mia misura. Come faccio a sapere che è la mia misura? Io consiglio di usare un metro, ma non il metro da sarta, e vi spiego perché. Ah! Il metro da sarta non è rigido, è morbido, giustamente, e quindi si adagia sul polso, ma non rispecchia la rigidità invece di un metallo come potrebbe essere l'argento, no? Allora, io consiglio di utilizzare il metro, questo qui, di elettricista, si trova in quasi tutte le case. Quasi tutte. Vabbè, aspettate. E lo poggiate, vedete? Ecco qui. E questo, non tirando, ovviamente, perché adesso si sta tirando, ecco qua. E non sta manco messo, perché è venuto troppo su. Ecco qua, un 17,5 e ci siamo. È rigido, quindi rispecchia l'idea del, come si dice, del metallo, che in effetti non è morbido come potrebbe essere un filo o un bracciale di stoffa, insomma. Come quelle che Pandora ogni tanto propone, no? Quindi, tornando a noi, bisogna misurarsi il polso, il mio è il 17, Quindi comprando un 17 io sapevo, sapevo, che il problema, il problema era questo. Cioè, più di questo non posso fare. Anzi, anzi che ci sono riuscita a mettere due clip ornamentali, in questo caso, perché volevo che la sezione del bracciale fosse divisa in tre in questo modo. Ovviamente io, questo non viene mai portato da solo, io lo porto sempre con... Eh, vabbè, mo' a trovarlo, ragazzi miei. Sai che fini ho fatto fa? È praticamente, vi ricordate il bracciale quello aperto così, con i due occhielli di questo argento e oro? Ecco, con quello lì, è quello rigido aperto suo, di questa tipologia qui. Io lo porto sempre insieme, mi piace come ci sta, insomma. Però questo è giusto per farvi vedere come calza questo 17 un pochino morbido. Eh, ma ovviamente non ci si può mettere altro, cioè, zero. Altri 17 di cui io, eh, che possiedo, ecco, mettiamo così, sono questi, ma non sono i miei, sono di mia figlia ovviamente, perché lei porta ovviamente una misura più piccola, porterà una 16, c'è un polsino piccolo piccolo. Guardi che bello sto cuore nero. Questo non me lo ricordavo. Ah, ma c'erano due, è vero, ma non stanno nell'orologio. Perché l'ha tolti? Vabbè, questo è un club. No, non mi dire, davvero è un club del 2000e? Scusate, 2000e? Mamma mia, non ci vedo niente. Ma perché sono così ciecata? Mi devo fare l'operazione agli occhi. Lo vedete? 2015, se non sbaglio. Con il brillantino solito, anch'esso qui. Ha la stessa forma del cuore con il brillantino della rosa dei venti che vi ho fatto vedere nell'altro video. E comunque, ecco qui, questo qui, con le clip anch'esso, e questo è quello a cuore, ovviamente le clip le ha volute a cuore. La simmetria, lei la rispetta quanto me, bene o male, vedete? E l'ha fatto così. Lei questo lo indossa molto tranquillamente, come per esempio potrei indossare io uno più... Mamma mia, dove stanno? Eh sì, vabbè. Ecco, scusate. Come per esempio io potrei indossare questo, no? Che è una 19, ma... Con questi pochi charm è indossato benissimo. Ma io la 19 la indosso anche così, cioè pienissima, vedete? Perché ha la stessa calzata di questa 17, identica, ma è un 19. Io vi volevo far vedere questo, che è la stessa 19. Questi sono i due natalizi su queste tonalità che ho. Poi ce l'ho anche sull'azzurro, ma in questo caso vi voglio far vedere questo. Aspetta un attimo che lo apro, così vi faccio vedere un attimino come calza questa... Come calza questa... Questa 19. E vi renderete conto che bastano due misure in più per riempirli così. E calzare nella stessa... Nello stesso modo in cui calza un bracciale della vostra misura di polso, ma vuoto. Spero di essermi spiegata. Eccolo qui. Un attimo che lo chiudo. Ecco fatto. Catenina. E considerate che questo ha uno, due, tre, quattro murrine, che sono quelle che prendono ovviamente più spazio sul bracciale. Sulla possibilità di... Insomma, portare un bracciale più stretto o meno stretto. Cioè, se fossero state tutte murrine non l'avrei potuto indossare in questo modo, ecco. Ha la stessa, identica, vestibilità di questo. Identica. Questo è un 17. Semi vuoto, vedete, ha soltanto queste due clip. Io porto 17 di polso. Questo è un 19 pieno. Quindi, quando acquistate, dovete sapere già dall'inizio, se lo volete riempire il bracciale. Allora vi regolate con due misure in più e lo dovete fare così. Perché altrimenti, se voi lo fate con due misure in più, ma lo fate così, ovviamente non viene come questo. Viene molto più sciolto, più vestibile. Chissà se questo me lo fa aprire. Aspettate. Cioè, nel senso, riesco a metterlo anch'esso. Vediamo, eh. Ci provo, ma è salito troppo, quindi la vedo dura. Comunque, forse l'avrei dovuto mettere prima. Ecco qui. Aspettate. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Voilà. Allora, vedete? Ecco la differenza. Questo è un 19 anch'esso, ma poco riempito. Riempito soltanto per un terzo. E mi calza così. Guardate. Questo è un 19 pieno, con quattro murrine oltretutto, e mi calza così. Quindi, nella scelta che farete del vostro snake, dovete guardare anche questo. Ora, ragazzi, siamo a 15 minuti, quindi io direi di iscrivervi al canale innanzitutto e aspettare il secondo video, che verrà subito dopo questo, che vi parlo anche di come scegliere il bracciale rigido e di altri discorsi riguardo, appunto, ai bracciali senza filettature, come questo qui, che ormai avete visto nell'altro video. Ok, ragazzi? A dopo. Un bacio. Ciao, ciao.